signora che cosa prova a sapere che suo figlio sarebbe potuto essere qui tra noi e coltivare il suo sogno di diventare ballerino sogno che è stato spezzato da un'accetta quel tragico giovedì dolore tanto dolore certamente e dove qui qui dentro qui dentro dolore al cuore e quanto è questo dolore lo quantifichi troppo non si può e senta che cosa ha provato quando ha capito che cosa stava provando ancora di più dolore che sentivo ancora più sopportato la prego signora no la prego stia tranquilla non la volevo agitare più di tanto vuole un goccio d'acqua una sigaretta tovagliolo